Allora ragazzi, qui dentro c'è un'altra cosa che è benazza al limite, quindi Andiamo a vedere chi è questa Un titano Da me qualcosa da lanciare al mio cane Un cadavere? Direi che è la cosa più Giusta in questo caso, no? Però Scusa eh Se lo rendo un Cadavere Di legno Legno? Cadaverico? Dura? Wow! Non basta, affanculo Ah, un legno Tutissimo Bastone gigante Sputafuoco Di legno, ovvio Seee, questo ti va bene Te È una carta di risa, è terribile Aiutami a non disidratarmi Un Distributore Auton Automatico Automatico Wow No Bottiglia Acqua Acquosa Bottiglia, acqua Tien Wow Minchia È verde Wow Impazzito Vabbè I tieni lontani I quattro cavalieri Dell'apocalisse Uh, interessante Pa 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 Perché panno Stava stirandosi Carino Attacco dei mostri Wow C'è una maschera Tiki Mi faccio Cosa Blob Blob La malattia Portata dalla Pestilenza Medico Voilà Il medico ha questi effetti incredibili Muori Bastardo Morte Ah no Quell'era Quell'era Pestilenza Ora c'è Guerra Ok Trovo un modo per Fermarla Un pacifista Un panificio La placca La guerra No Allora chiamiamo un Supereroe Buono Dovrebbe fare Il caso nostro Olè Sono un genio Cazzo Chi l'avrebbe mai detto Che avrei trovato Una soluzione Così bella Questa è morte Sicuro No Chi è? Oddio Sì è morto È fame Chi è? Ma come fame? Ah è carestia Ok Trova da mangiare Per i nativi Lasagne Giganti In mezzo al In mezzo al deserto Ce n'è così Gigante L'ho scritto È lasagna Eh Lasagna Perché no? Allora Bomba Gigante Bionda Gigante Ma cosa? Sono diventati Dei cannibali Così? Vabbè Questa è morte Oh Finalmente ne riconosco Una Porca puttana Sono trovato un modo Per riportarli in vita Angelo Guaritore Esiste? Angelo Garbato No È un angelo garbato Ragazzi Su È un angelo garbato Però Funziona Anche Garbato Non è guaritore Ma funziona Voila Oddio La stella è pesantissima Tipo Ucciso Quell'uomo Siamo già 8 stelle In più di quelle Che in teoria Dovrei Avere Ragazzi Che genio Volante Veloce Voila Pistola Raggi Inviluppato La mia pistola Bisogna Energia fela Io Ti do Una pistola Con congelante Pronto Fatto Congelante Congelata Voila Funziona Funziona davvero Wow Quello era tipo Il covo Di un cattivo Immagino Qua Tutti Fornisci la cintilla Della Della vita Cosa? Fornisci la cintilla Della vita In Infuocato Boom No Fornisci la cintilla Della vita Che diavolo Vuol dire? Scusate Il butto del fuoco Adosso Ah certo Se lo rendevo Infuocato Però no Ti odio Gioco Quando fai così Oddio Finisce Epica Porca puttana Fenice Gigante Gigante Veloce Immortale Fatto Wow Voilà Che figata Sono una fenice Porca puttana Salta Salva Il villaggio Dallo vulcano Che sta per erottare Vai così Dobbiamo salvare Un villaggio Ragazzi Abbiamo una responsabilità Incredibile Scrivi tre doni Della terra Sasso No Albero Pianta Voilà Nuvola Pesante Che poi Non è un dono Della Della terra Una fottutissima Volpe No E allora anche Una giraffa Robotica Funziona Lui è contento Guarda la giraffa Sta ancora soffrendo Povera Sta soffrendo Cosa vuoi adesso Attenzione Vulcano Ha salito Ancora Cerca di Escrivere Ok Ora ci vuole Quindi qualcosa Per Oh È vero Perché Lei era Robotica Vero Mettiamo Un computer E una Console Vai Genio Lid Genio 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 Però Ancora Non basta Ragazzi Vedete Tan 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 E cosa accadrà Adesso Cos'è Perché un denaro Dei soldi Giganti Galante Dei soldi Galanti Mandavano i cuoricini Solo perché erano Galanti Ma attenzione Sale ancora Sì Porca merda Cosa vuole ancora Il sangue Di una vergine Cosa vuole ancora il sangue di una vergine Cosa vuole ancora il sangue di una vergine Quora Lei sarà felicissima con lo slender Voila Cosa fanno Ha ucciso lo slender Ah no Ok Menomale Lo slender è salvo ragazzi Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant fabbro bravo dotato basso famoso tieni no una lama utensile funziona attenzione il terribile edificato è quello della coca della coccatrice attenzione andiamo a uccidere scusa no 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 non monta sputa fuoco e boom minchia 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 troppo 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 buona salvi di colore di anna scendi smonta ma smette di seguirmi cosa c'è coro cosa mi serve ho messo a ecco ok raccogli wow ho capito è una trappola allora immortale ok sasso guala e noi montiamo su sta fare qua te vuoi ancora qualcosa no l'apice indiana jones contro un alieno blob rosso cinerio mi sono imbattuto nella merda trovo modo per contenerla barattolo ti basta guala no si funziona ok questo getta getta la cena nel calderone bubino perché è un cannibale ragazzi quindi bubino ma come ma come ma come un bubino piccolo aaaah ma addio che c'è qua c'è frodo sull'apila wow chi manca me ne manca solo uno wow davvero impossibile chi diavolo ma attenzione qua c'è un avvolturio che ce l'ha sfuggito no no perché lo stiamo attaccando non posso uscire il mio uovo da solo un un clone tieni sì ho bastato a creare un clone di me stesso che cazzo di genio che sono ok abbiamo fatto tutto ammazziamo allora il titano no abbiamo fatto tutto sì quindi ragazzi il video è completato e ci vediamo nella prossima parte lasciate un mi piace e un commento e diventate farlo sulla fa pesi pesi tu bello ragazzi ciao